E benvenuto Giovanni, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto, l'autore del drappellone del Palio di Siena 2024, complimenti. Grazie, grazie tante. Ecco, la lettura. Giovanni Gasparro ha reso felice una città con il suo nobile drappellone per il Palio di Siena. Finalmente tutti i senesi hanno visto la Madonna senza le formazioni o ricerche sperimentali, tanto cara agli artisti che piuttosto che amare, amano provocare. Gasparro vede, dipinge l'apparizione in alto, nella sua veste bianca, della vergine che parla con gli angeli, mentre sotto un paggio guarda Siena dietro il velo. Gasparro ha ripinto la Madonna nell'esisto superiore dell'opera, in una gloria di angeli, coronata come dell'effigio federata dell'insegna e collegiata di Santa Maria in Provenzano, e guarda con una mano posta sul petto verso il basso, un velo verso i fedeli e verso la città di Siena, riunita per il Palio. Uno degli angeli regge un ferro di cavallo dorato, allusione alla corsa in piazza del campo. Nel registro inferiore, nel drappellone, trova lo spazio gli stemmi dei tre terzi della città, ovvero terzo San Martino, terzo di Cavolia e terzo di città. Davanti a un vero pittore, il popolo è felice e Gasparro ha guardato i grandi maestri del Seicento napoletano, soprattutto Caravaggeschi, per farli rivivere, sentendo la carne di Ribera, il teatro delle passioni di Mattia Preti, la danza di Bernardo Cavallino, l'armonia di Giacquinto, un delirio di mani, raro tra i pittori contemporanei, dipingere per le chiese. E io, nel primo tempo della ricostruzione dell'Aquila, inaugurai il suo ciclo di pane d'altare per la chiesa di San Giuseppe Artigiano, danneggiata dal terremoto del 2009, il più vasto ciclo pittorico d'arte sacra compiuto negli ultimi anni. Per Siena, lui pugliese, ha pensato anche a Paolo Finoglia, i cui panneggi si accartocciano e si accarezzano. Chi lo ha visto non lo può dimenticare. E ora Castellabate torna per essere premiato. Grazie, grazie infinite per queste parole. Credo che siano una sorta di summa di un lavoro davvero straordinario come quello di Siena, che per un pittore è un unicomo assoluto, nella misura in cui nessuna mostra rende l'opera viva come è viva Siena, perché mostrarla alla città e renderla in qualche modo anche lo strumento stesso è il premio del palio. Quindi è un'opera viva e come tale, quindi credo che possa essere unica nel suo genere. Io oggi sono particolarmente emozionato di tornare qui a Castellabate, perché devo molto anche a questo premio, vinto tra l'altro nel 2014 quando c'era una mostra concorso. Prima c'era questa formula un po' diversa anche delle mostre nel castello. Quindi tornare è sempre un grandissimo piacere. Sono estremamente grato al professor Sgarbi che da anni sostiene la mia pittura dai tempi dell'Aquila, ma anche prima dalla Biennale di Venezia. Quindi questo tributo di stima mi ha sempre lusingato e credo di dover grande gratitudine a Vittorio Sgarbi, ma anche a Santino Carta, perché ormai credo che ci possa essere un'amicizia tra noi. hanno sempre sostenuto la mia pittura, e poi sono nato lo stesso giorno di Pio Alferano. Quindi tra le altre cose mi sento molto legato. Non potevi che essere qui stasera e diciamo aver cominciato anche qui a Castellabate. Premiamo. Grazie. Facciamo un applauso a Giovanni Gasparro, grazie davvero per essere qui, complimenti per il tuo lavoro. Facciamo una foto. Grazie ovviamente all'amministrazione comunale di Siena, al sindaco di Siena che mi ha scelto come pittore del drappellone, mi incarico prestigiosissimo, dipinto da grandi pittori. Grazie. Grazie.